attenzione adesso difendiamoci difendiamoci bene vai 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 dai che arriviamo in oro dai dai che arriviamo in oro rapina che cazzo fai che cazzo fai mamma mia manco da vicino vedo persone c'è uno con livello diamante che cazzo ci fa qua con noi non gli devo fare avvicinare a nessuno abbiamo vinto abbiamo vinto porca di quella troia e varia prende 17 gemme ora quello meno male che dovevamo andare a vincere meno male vai dentro cazzo ma che cosa fai figlio di puttana se perdiamo è per te